Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Non era mai successo prima a Forum dove una signora non riesce a trattenere la pipì. Il giudice la caccia dallo studio ma ormai il danno era stato fatto. La trasmissione condotta da Barbara Palombelli è famosa per questo tipo di episodi fuori dal comune. Il noto talk giuridico non istituzionale adesso è tornato ad avere i riflettori puntati per un evento clamoroso. Il famoso programma è uno dei più seguiti della televisione italiana. Ormai è un punto fermo per Mediaset che ogni stagione rinnova il format, dove alcune volte abbiamo visto dei piccoli cambiamenti per continuare a catturare l'attenzione del pubblico che rimane incollato alla tv per seguire le storie. Barbara Palombelli ha preso il posto di Rita dalla chiesa e proprio durante la conduzione della moglie di Francesco Rutelli è successo qualcosa di impensabile ed inverosimile, un episodio che è già passato alla storia. A lasciare esterrefatto il pubblico in studio e quello da casa è stato un evento che ha visto protagonista anche il giudice Francesco Foti, che si è trovato davanti una scena incredibile quando una delle parti in causa non riusciva ad intervenire nella vicenda perché sopraffatta dalle urla della concorrente. A questo punto il giudice si è visto costretto a cacciarla dallo studio. Ma la cosa incredibile è quello che è successo dopo che è tornata. Dopo il dibattimento la donna è tornata, ma improvvisamente scatta in piedi e chiede alla Palombelli di andare urgentemente in bagno, perché le scappava la pipì aggiungendo inoltre di riuscire a trattenerla in quanto è giovane sia dentro che fuori. Un siparietto che ha lasciato tutti sbalorditi, conduttrice compresa, che sconvolta da quello che si è trovata davanti, ha sottolineato che un evento del genere non le era mai successo in tanti anni di conduzione del talk giuridico di Mediaset. Un momento incredibile che è andato a finire persino al primo posto della classifica a nuovi mostri di striscia la notizia.